Il regista Nicola Bellucci è un amico vecchio di me, lo conosco già da vent'anni e lui mi ha aiutato sempre un po' a fare i miei film e quando lui mi ha proposto di fare questo film era la sua idea e ho detto subito sì perché mi sembrava una storia abbastanza interessante e anche importante cioè l'idea era sua perché lui è di Poppi dove questo Wolfgang Fassel adesso vive cioè loro si conoscevano già da 15 anni e lui ha sempre pensato che sarebbe una storia importante da raccontare abbiamo sviluppato il progetto un po' insieme poi ho fatto anche il montaggio insieme a lui comunque lui è il regista però come produttore non mi interessa di seguire progetti da lontano io voglio essere coinvolto e credere nel progetto e lavorare e fare tutto che è necessario per trovare i soldi era abbastanza facile devo dire cioè in 3-4 mesi poi tutto era al posto però poi abbiamo girato per praticamente due anni è montato per un altro anno anche di più cioè abbiamo lavorato 3 anni e mezzo, 4 anni quindi La filmazione è preparata. Fertig. Benutzer installa. Tonspelle. Tonspelle. Ha aiutato un po' che il personaggio principale è Cecco. Non sapeva mai dove c'era la camera o non ha visto la luce se si girava o no e questo ha aiutato tanto perché lui non si rendeva conto dove c'era la camera non ha mai guardato nella camera e quello faceva la situazione più naturale più autentica in un certo modo. E' chiaro, anche i bambini, quello grosso, Armanno lui si rendeva conto della camera alcune volte anche ha cominciato a giocare un po' a fare delle, come si dice, grimace però anche gli altri dopo un attimo siano abituati alla presenza della camera cioè questo non era un problema come normalmente nei documentari può essere sempre un po' un problema anche in questo caso però no. No, all'inizio abbiamo anche tirato tutta la sua storia personale perché lui veniva dalla Svizzera cioè abbiamo anche tirato abbastanza materiale sulla sua gioventù, su quel paese da dove viene chiamato Clarone e lì erano momenti speciali però poi abbiamo deciso che il film per il film non funziona diventa troppo di raccontare tutta la storia che poi abbiamo concentrato su questo atelier con i bambini però tutte queste storie che ha raccontato come era di diventare Cecco come lui ha vissuto come giovane vedendo e non vedendo allo stesso tempo perché aveva questa malattia sarebbe un altro film era veramente interessante però era troppo